Sono tre le indicazioni che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica ricevuti in Vaticano, ai quali ha ricordato l'orizzonte di evangelizzazione nel quale operano le scuole e le università. La prima è quella di umanizzare l'educazione perché si vive in una società sempre più individualista e che rende umanamente poveri e culturalmente sterili. La scuola e l'università, detto il Papa, hanno senso pieno solo in relazione alla formazione della persona, pertanto gli educatori sono chiamati ad aiutare i giovani nella costruzione di un mondo più solidale e pacifico. Seconda indicazione è far crescere la cultura del dialogo, ricordando che nel mondo ci sono violenza, sfruttamento e discriminazione che creano una cultura dello scarto, l'impegno è quello di praticare la grammatica del dialogo che forma l'incontro e la valorizzazione delle diversità culturali e religiose. Un dialogo autentico senza perdere la propria identità, un metodo finalizzato alla ricerca della verità. Infine, l'ultima indicazione del Papa riguarda il contributo dell'educazione al seminare Speranza nel far nascere e crescere in una vita tesa alla ricerca del bello, del buono, del vero e della comunione con gli altri per una crescita comune. Il vero educatore, ha concluso il Papa, è come un padre e una madre che trasmette una vita capace di futuro, fare cioè il lavoro dell'orecchio con i giovani ai quali, ha ricordato Francesco, è dedicato il prossimo sinodo. Grazie. Grazie. Grazie.